ciao allora in questo video vi mostro i miei acquisti da wish e sapete che io sono una appassionata quasi maniacale di wish e mi sono promessa di prendere solo cose utili ultimamente o che voglio che mi piacciono o che comunque sia davvero di pensarci quindi metto negli desideri e ci penso volete dire che un unicorno squishy non è utile allora sì solamente squishy in questo video ed si dice squishy perché io alla fine non queste cose che anni fa si chiamavano antistress adesso si chiamano squishy comunque sia carinissimo allora questo qui l'ho pagato un euro perché costava di più l'ho messo negli desideri ho aspettato ed è andato gratis con solo la spedizione e ve lo mostro cioè è carinissimo è un unicorno carino fatto anche molto bene con coda un po glitterata è fatto bene niente da ridirti proprio carino e non è di quelli slow rising quindi questo qua se lo schiacci torna subito in forma però davvero è carinissimo è fatto anche l'ho già detto che è fatto bene sì ecco è fatto bene e non potevo non avere un unicorno insomma e visto che io ho un problema con gli unicorni allora sempre un euro l'uno e subito avevo visto questo qui e ho detto no che carino unicorno seduto con il suo cornino però dopo è andato in offerta anche lui e poverino non poteva restare da solo quindi adesso ho la coppia di unicorni allora c'è questo che è seduto è carino con le sue orecchiotte e sempre di quelli che schiacci e torna su abbastanza velocemente è abbastanza veloce ma è morbidissimo e poi è carinissimo e poi c'è suo fratellino quindi sempre anche lui seduto ma sono fatti bene in questo lo si nota un pochino meno ma questo c'è proprio fatto benissimo perché ha la punta delle zampe delle degli zoccoli ed è la criniera con i vari colori le orecchiotte il cornino ci sono questo qua è anche un pochino più lento aspettate ok e niente erano troppo carini e dovevo per forza prenderli sì ho un problema e ho effettivamente un problema perché allora dovete sapere che chi più o meno alla mia età non può non aver essere cresciuta con dottor slump e arale quindi la cacchetta è inutile è una passione per me dottor slump e la cacchetta e oltretutto è bellissima sempre un euro guardate è simpatica oltretutto tutta sembra fatta galaxy è sfumata bene è il rosa il viola poi va il blu è sfumata bene è morbidissima è super slow rising cioè guardate è stupenda aspettate ora aspettiamo un po' aspettiamo ancora stiamo ancora aspettando è bellissima e stiamo ancora aspettando non è ancora attratta in forma aspettiamo aspettiamo possiamo fare qualcosa intanto a voi avete la passione delle cacchette io sì io sì sì ditemi se avete presente dottor slump e arale c'è dottor slump è fantastico mitico e questa è morbidissima fatta bene non fa le pieghette quando la schiacci è bellissima veniamo con l'ultimo che vi mostro allora questo l'ho pagato un pochino di più il colato continuo a schiacciare la cacchetta perché è che è morbidissima rispetto a loro che sono un pochino più è un materiale diverso loro sono un pochino più pieni sembra l'ultimo che vi mostro l'ho pagato di più perché l'ho pagato ben due euro ma non potevo non lasciare non prenderlo è una cerbiattina è fatta benissimo anche lei perché è anche grande perché guardate la mano quindi è anche grande ben due euro è fatta bene sotto è rifinita bene a questa stampa galaxy sempre che è più scura e poi assumata verso l'alto poi è seduta quindi con le quattro zoccolini che si vedono al blush alle ciglia e le orecchiette e le corna con il fiocchetto no guardate l'aspettate è fatta troppo bene e poi è morbida è morbidissima credo di avere un problema con gli squishy perché sono belli anche solamente da tenere lì da vedere ma la cacchetta mi fa impazzire ma anche la scuiat... scuiatolina la cerbiattina una cerbiatta una cerbiatta sì allora dunque questi era tutto il mio delirio sugli squishy presi da wish e secondo me sono fatti bene cioè li schiaccio continuamente non fanno le rughe le grinze non perdono il colore questa qui poi mi fa impazzire inutile mi sa che dovrò prenderne un'altra perché così faccio la coppia ho qualche problema lo so fatemi sapere se vi sono piaciuti qual è quello che preferite e soprattutto se sapete che sono dottoslampe a rale e se avete presente di cosa sto parlando comunque se vi ho tenuto un po di compagnia fatemelo sapere e supportatemi con un like mi raccomando anche di iscrivervi al canale così non perderete i prossimi video deliri ed è raccomando anche di cliccare sulla campanella così dovrete avvisato ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao